Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla Bottega Didattica, mi vedete qui in basso a destra purtroppo si è rotta la mia webcam e mi vedete un po' ruotato di 90 gradi bene, questo è Listly, Listly è un'applicazione web, è un ambiente che permette di creare liste, elenchi ovvero raccolte su un tema specifico, raccolte di che cosa? raccolte di risorse che trovo sul web, video, link, articoli, file audio qualsiasi tipo di risorsa multimediale su un argomento specifico che voglio condividere per esempio con i miei studenti, oppure un elenco su un argomento specifico che io ho assegnato come lavoro ai miei studenti, in modo da abituarli ad acquisire quelle competenze didattiche come ricercare, selezionare e così via oppure ancora una lista che sto realizzando collaborativamente con altri colleghi come ho fatto inviandovi nella lista di prova che ho realizzato un invito bene, adesso non perdiamo più tempo entrerò in questo ambiente digitando la mia password la mia mail, voi vi dovrete registrare ecco qua adesso vado, questa è la pagina iniziale usando questo menu qui in alto vado a vedere le mie liste ho realizzato una lista che ho condiviso con voi come si realizzano le liste questo è lo scopo si chiama content curation, cura dei contenuti è uno strumento per cercare di interpretare le risorse che ci vengono dal web cioè di saperle selezionare per un utilizzo in questo caso nell'ambito dell'apprendimento e dell'insegnamento vedete qui questo pulsante make a list, clicco realizzo la mia lista adesso io darò un titolo provvisorio Pippo sceglierò un layout, cioè un'impaginazione diciamo, magazine comunque poi la posso visualizzare come voglio darò una descrizione lista di Pippo e inserirò dei tag i tag sono aggettivi con i quali io qualifico la mia lista sono delle etichette che servono per identificarla per i motori per esempio di ricerca inserirò Pippo Disney d'accordo, a questo punto la lascio pubblica potrebbe essere anche privata e clicco il pulsante posto in basso a destra realizza la lista la lista è stata creata qui in alto ho il nome della lista nell'ordine il nome dell'autore il nome dei follower che mi sta seguendo cliccando qui posso ottenere come vedremo in seguito il codice per incorporare questa lista per esempio nel mio blog se mi interessa cliccando questi pulsanti posso condividere la lista nel mio account Twitter Facebook Google e così via ma veniamo a noi disponiamo qui in basso di un menu il menu serve per creare gli elementi della nostra lista per inserire gli elementi della nostra lista che andranno a riempire questo spazio vi mostro il risultato finale tornando per un attimo su questa lista qui ecco questo è il risultato finale c'è un'immagine di copertina e questa è la lista l'ho chiamata disciplineria ho dato una definizione ci sono risorse di italiano di arte e così via di chimica di fisica posso come vedete visualizzarla in vari modi adesso vi l'ho visualizzata come magazine premio come lista minimale ecco qui ridotta all'osso è una lista cliccando qui vado a finire sulla risorsa che ho linkato in questo caso un glossario di arti e architetture bene adesso che abbiamo capito qual è il risultato finale torniamo alla lista che stavamo costruendo dal menu visualizzo le mie liste poi clicco sopra la lista in modo da visualizzare la modalità edit editing cioè di lavoro questo menu dicevo mi permette di inserire vari tipi di link per esempio una lista poniamo di inserire dei link sulla didattica per competenze una lista noiosissima ecco io mi sono preparato questo link lo seleziono clicco col destro copia torno alla mia lista è semplicemente era un link che devo inserire clicco sul link mi si aprirà una finestra di lavoro devo semplicemente incollare faccio ctrl v e speriamo che vada tutto bene perfetto questo è il link questa è un'immagine che lui mi propone vedete mi propone anche un'altra immagine lasciamo questa dalla lavagna posso caricare un'immagine se voglio posso cancellare posso inserire un link ma queste sono cose secondarie vediamo qui questa è la descrizione della risorsa una risorsa va sempre recensita descritta devo dire allo studente o al mio utente o al mio visitatore cosa trova in quel link che gli sto proponendo naturalmente viene generata in automatico la descrizione che viene rilevata sulla pagina ma io ne voglio inserire un'altra cose da sapere per didatticare con competenza questo scrivo una scemenza qualsiasi ho inserito la recensione che è fondamentale come sono importanti i tag clicco save e ho il primo elemento della mia lista lo sta aggiungendo alla lista eccolo qui primo elemento della lista come vedete posso cancellarlo posso editarlo di nuovo posso muoverlo in coda lasciamo stare queste funzioni immaginiamo adesso dover raggiungere un video io ho preparato un altro video noiosissimo sulla didattica per competenze che vi propongo cliccando su video anche in questo caso past cioè incolla il video incollo lui lo sta incorporando eccolo qua anche in questo caso varie opzioni unità di apprendimento per la costruzione delle competenze per esempio qui potrei voler raggiungere video di pochi minuti in cui viene spiegato eccetera eccetera da didattica no come si chiama adesso non ricordo il sito è un amico molto bravo che fa di queste cose inserisco i tag scriviamo competenze e salvo secondo elemento della lista le recensioni o descrizioni del singolo elemento devono essere fatte molto bene se ci rivolgiamo ai nostri alunni per esempio potremmo dirgli cosa trova lì e che uso ne deve fare per esempio guarda rifletti guarda ricorda guarda eccetera eccetera studia oppure guarda approfondisci o qualsiasi altra cosa bene aggiungiamo un ultimo elemento per esempio aggiungiamo adesso vado a caso proviamo ad aggiungere un'immagine per provare anche questo ecco io ho selezionato questa nuvola di parole ho tag cloud copio il link è un'immagine vediamo se cosa succede se ho alzeccato no qui mi chiede di caricare un'immagine vabbè allora carichiamo Bruno Giordano no carichiamo i filosofi ecco qua ho caricato un'immagine anche qui darò mettere una didascaria contemporanei e qui scriverò colorateli in un altro modo dando all'erunità indicazione su quello che devono fare inserirò i tag filosofia si mette una virgola e salvo come vedete è tutto molto semplice ho anche varie opzioni che posso anche farvi vedere un attimo posso per esempio usare il neretto o grassetto posso usare l'italicus posso inserire un link per esempio ho messo già un franco e metto qui un link a un mio sito in modo che l'utente possa arrecarsi a quel sito posso anche vedere un'anteprima di quello che verrà fuori ma insomma è già un'anteprima questa adesso cancello senza salvare le modifiche bene abbiamo tre elementi nella nostra lista vediamo un po' li posso visualizzare ordinare o in base alla cronologia in cima ci sarà l'ultimo o in base al rank perché chi visualizza la mia lista può votare e quindi i più votati saranno in cima oppure posso anche visualizzarli come galleri e vedete compare una galleria con delle piccole immagini come in modo minimale una piccola lista senza nessuna immagine come una lista con immagini ecco questa forse è la più pratica insomma ho varie modalità di visualizzazione posso anche modificare l'ordine della lista ovviamente basta che vada su curate cura e mi compaiono delle icone numerate con qualche parola esattamente con i titoli dei miei degli elementi della mia lista per esempio spostiamo l'elemento uno qui in mezzo andiamo a vedere cliccando su item cosa è successo effettivamente vedete mi ha spostato ha spostato gli elementi il primo è stato spostato al secondo posto o qualcosa del genere bene queste sono le cose essenziali a questo punto la mia lista è già salvata io posso anche invitare qualcuno come ho fatto io con voi per collaborare cliccando su invita un amico se tutto funziona dovrebbe comparire una pagina con un format che mi permette di invitare con l'indirizzo mail altre persone a collaborare alla mia lista ecco qua nella versione gratuita io ho la possibilità di invitare fino a 100 utenti bene adesso forse non ho capito bene io vabbè comunque posso invitare o usando i miei contatti facebook o usando la mia lista la mia rubrica su gmail o semplicemente digitando degli indirizzi pippo chiocciola pippo punto it separati anche da virgole se sono più pippo e pluto eccetera eccetera pluto.it separato da virgola e così via a questo punto mando l'invito e arriverà a pippo e a pluto che collaboreranno alla mia lista torniamo nella lista ecco qua la mia lista è terminata esistono naturalmente tante altre piccole cose che si possono dire posso votare sia mi piace che anche dislike non mi piace questo è interessante posso cercare usando questa barra di ricerca gli item se si dice così in inglese posso anche commentare e quindi un alunno potrebbe inserire un commento a cui un altro potrebbe rispondere creando una piccola discussione come in un forum quindi diciamo che è un strumento che presenta caratteristiche abbastanza interessanti dal punto di vista didattico chiudo qui perché sono già 12 minuti e non vorrei annoiarvi posterò questo video su youtube e poi sul nostro gruppo su edmodo vi ringrazio per la pazienza vediamo se riesco a raddrizzarmi non dovrei mettermi così ecco ciao